Da tempo è già finito l'arco di YouTube con War of the Fat Italians 2020, che ci reagiremo mercoledì, sì esatto, ma a mercoledì reagiremo a War of the Fat Italians. Comunque, adesso è il momento di ritornare un po' in detto il tempo, a proposito vedremo solamente il musical e le parti finali, ma comunque andiamo a Mario's Spicy Day, il primo episodio della YouTube Arc, andiamo a vederlo. Ok, ovviamente, parte con questo, vediamo adesso, produttori, che bello, ok, inizia con Mario che cammina nel video, dovrebbero esserci spaghetti gratis, e poi ci sono tutti questi memes che può morire. E poi c'è SMG3 Pro, what? Snitch Production, SMG3 Super Absom Podcast, Better Robin Gardens, con Homer Simpson. Top 10 Best Anime Moments. Comunque, ASMR. Non è un ASMR, faccio così tanto... Tech Tips, una Xbox One X... Posso vedere i miei spaghetti adesso? Dottore SMG3 Veramente... Proprio, proprio... Cool? Dammi gli spaghetti! Ce ne sono qua? Waiting for you... Spicy ones! Eh, sta andando a fuoco! Oh... Che... Perché... Perché esulta? Perché esultazione numero uno activated, come su FIFA, ed è morto. Eh, ti sono piaciuti questi spaghetti? Io sono su... Cane! Perché... Perché sento delle cose napoletane? Cosa... Eh, non so... Non so... Snitch Productions. Bitcoin Ok S Cosa Ok Stonks Perché ci sei anche tu In questo episodio Cosa Perché sto Ma io mi chiedo perché sto facendo Le reaction come se la stessi Vedendo per la prima volta io l'ho visto Una prima volta Questo è spicy Oh Oh Mamma mia Ok Ok My ass Come le esultazioni di Shroomy Oh Shit Oh Gamer But Water Come Puoi Intervisti Obama Goodbye L'hai rubata Gli italiani He's so desperate What Umilio Come Sta tanto a domani altissi Oh no It's Hitler time Oh 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 S Beh Fanno commenti razzisti Verso SMG4 Che vuole Che vuole Invadere la Cecoslovacchia ASMR Eh Sì Asmr Sì Asmr Sei Come un ciuccio Di Meri Perchè c'è Winnie the Pooh mega pompato Forse Forse la sua cosa da Wii Sports It's all coming together Eh sì Lo dicono sempre i cattivoni Welcome to Puzzle Palluza Abbiamo Mario Gli occhi e devono risolvere Un puzzle Un puzzle In questo momento è un cubo di rubic Che viene Che viene messo Where's my spaghetti Where's my spaghetti It's 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 Come Yes Spaghetti Extra Balliamo come in su Fortnite Abbiamo un genio Objection Batman Eh Chi sei Chi 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 Sei Aspetta Yeah Oh Bullshit Era un'acrapata Sicurezza Lo dicono sempre tutti Perchè sono due Eh non mi ricordo quello si chiamavano Uno mi ricordava Twitch? Cosa? Non avevo capito Twitch. No. Get that motherfucker. Box of Spice Nims. No. Get him. Beh, ok, una tomba di Mr. Moon e vi è schiappeggiata da SMG4. E' ruinato i TikTok. Gli ASMR? Cioè, gli sappiamo tutti che i gatti si inseguono gli ASMR. Stop, please, you're ruining everything. E il suo vodcast viene rovinato. E guarda, e va a fangale. Oh no, Isabel. Oh no, Sans. No. Adesso verranno la sceneggiata tutta. Megalovania starts planning. Ok? I'm gonna look better when I stand in speed. Ah, shit. It's very... Ma usatela su, 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 su. Mi sa che l'hanno usata su tutto e infatti è distrotto tutto. E adesso ci sono le parti finali del video. E pur essendo che sia stato distrotto il suo studio, sta avvenendo. Quasi, quasi. bella provazione, ma, in ogni volta, hai fatto rilasci, figlio. Eh eh, sono fallito. I said, ha ha, ha, il tuo progetto è stato rilasciato, figlio. Oh, ma che figlio. Oh, ma che figlio. Evo? E dove ti vedai l'evido? OH NO OO! le mie povere creazioni! un kirby! tu per farlo fai un altro studio attitude che è attitude era e allora dove sono Stone Cold dove è The Rock con i capelli e dove sono tutti quei quegli nacelle in cui si buttano persone manco la sto dicendo cose da wrestler ok avete capito quindi se questo è l'unico riferimento aspettatevi Mario wrestling ping e allora sono meglio fra l'uno come e ma e Hogwarts questo come torno per la più bella waifu no dai poi torno per la miglior waifu maschio torno per la miglior rana guida con pasta mi dispiace comunque alla rana che guidava ma è morta sta dicendo guardi un levioso per evocare il miglior meme come sta danse buona il Adesso arriva il plot twist, lo sapevo babbo l'ho già visto un'altra volta questa puntata e come lo sapete E' scomparso? Ok, abbiamo capito che lo studio sta andato distrutto come loro Nooo! E adesso il video, grazie. E adesso vabbò. Comunque quanta nostalgia c'è in questo episodio Che startò un bellissimo arc di cui vedremo la puntata finale mercoledì della prossima settimana Quindi siate sempre sintonizzati sul mio canale e non fate fesserie, avete capito? E allora ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!